Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming. In questo video vi spiegherò come comprimere il peso delle immagini JPEG e PNG direttamente online. Se prendo ad esempio questa fotografia, questa immagine, come vedete il peso è di 7 MB, quindi abbastanza pesante, perché la qualità è elevata. Parlo di un'immagine JPEG. Se devo ridurre il peso di questa immagine vado sul servizio compressjpeg.com. Vi è anche la versione PNG, su questo sito potete accedere ad una lunga serie di strumenti davvero molto utili. Quindi clicco su carica i file, seleziono l'immagine e come potete vedere il servizio la sta comprimendo. Quindi da 7,3 MB viene ridotta, tra poco lo scopriremo. Naturalmente il tempo impiegato cambia a seconda del peso. Dell'82%, quindi se scarichiamo l'immagine non perderà di qualità e come potete vedere da 7,26 MB è diventata 1,30 MB. Quindi grazie a questo servizio online voi potete comprimere il peso delle immagini senza registrarvi, senza loggarvi, senza scaricare o installare nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.